E' nell'area e potrebbe essere ufficializzata già nel corso della settimana la decisione di Aldo Patriciello e del Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno di rompere l'alleanza con il centro-sinistra per tornare nell'ovile del centro-destra dopo cinque anni di sostegno incondizionato a Paolo Frattura. Nei giorni scorsi l'eurodeputato di Forza Italia, accompagnato dalla coordinatrice Anna Elsa Tartaglione, da Angela Fusco Berrella e da Maurizio Tiberio, si è regato a Roma da Altiero Matteoli per sponsorizzare la candidatura al vertice della Regione del Presidente del Tribunale di Isernia Enzo Di Giacomo. Secondo attendibili fonti romane invece non c'è stato alcun incontro tra la delegazione molissana di Forza Italia con il tavolo della coalizione di centro-destra, ma si è trattato solo di un confronto personale con Altiero Matteoli al quale è stato richiesto di valutare la possibilità di candidare il giudice di Giacomo alla Presidenza della Regione. Niente di definito dunque, anche se cinque dei sei movimenti che hanno costituito la Confederazione Civica hanno lanciato un appello a Di Giacomo. È una persona che ha in sé i requisiti di autorevolezza istituzionale, comprovate capacità organizzative e gestionali, nonché l'assenza dei conflitti di interessi. Hanno scritto in una nota congiunta, creare futuro, coscienza civica, libera termoli, molise nostro e partecipazione democratica. Di certo, aggiungiamo noi, Enzo Di Giacomo rappresenta questo, ma resta da capire come si coniugherà la sua figura con i tanti conflitti di interessi in capo ad Aldo Patriciello, che è stato il primo sponsor di Enzo Di Giacomo. Secondo molti esponenti politici di centrodestra, però, il giudice non avrebbe il consenso del popolo per poter vincere le elezioni, perché non rappresenta e non è radicato nei valori e negli ideali che caratterizzano il centrodestra stesso. In ogni caso, la spaccatura resta perché Michele Iorio non molla e mantiene la sua candidatura alla Presidenza, nonostante l'ipotesi di Giacomo. Io sono espressione storica del centrodestra e cercherò l'unità di tutta la coalizione sulla mia persona, dichiarato l'ex governatore. In ogni caso, a concluso, sono pronto a candidarmi anche da solo con le mie liste civiche e con il sostegno di Raffaele Fitto. Al momento, resta in penombra la candidatura di Mario Pietracupa, ma i giochi non sono ancora ultimati. Brutto colpo, invece, per Paolo Frattura, sonoramente fischiato anche all'andocciata di Agnone, che resterebbe praticamente da solo, dopo la costituzione di Ulivo 2.0, qualora Aldo Patriciello e Vincenzo Cotugno ufficializzassero la rottura definitiva dell'alleanza e il loro ritorno nella casa del centrodestra. Peraltro, molti sindaci vicini al governatore gli hanno detto che gli elettori non lo rivoteranno e che loro non si candideranno con un centrosinistra diviso e destinato a perdere. Intanto, Domenico Dinunzio ha lasciato il gruppo del PD e si è trasferito in quello di Vittorino Facciolla, denominato Unione per il Molise. È probabile, dunque, che anche gli amici più fedeli di Frattura e lo stesso Vittorino Facciolla pensino a soluzioni alternative per rimanere a galla.